in cui in molte città d'Italia il centro-sinistra ha raggiunto risultati straordinari. Però questa, lasciatemelo dire, è la capitale. Ed è da qui che dobbiamo riacquisire un ruolo di guida, guida morale per il nostro Paese. Ed è per questo che io l'impegno più grande in questo momento, oltre alla straordinaria gratitudine per tutti voi e per tutti quelli che mi hanno accompagnato. Vi assicuro che ci sono stati momenti difficili, momenti impegnativi, momenti di grandissimo stress. Però io l'impegno più grande in questo momento lo sento per quelle romane e per quei romani che non si sono recati alle urne perché disillusi dalla classe dirigente del nostro Paese.